Museo di San Giovanni nel contesto dei musei fiorentini, quindi è stato qui il soprintendente Smith per verificare questa possibile collaborazione davvero incredibile e straordinaria con già una prima opera che è appunto il Parato di Niccolo V che è tornato a Filizzano, il parato che è custodito nel Museo del Bargello quindi iniziamo con una prima mostra, con una prima opera, in questo caso una mostra curata da Barbara Sisti e contestualmente a questo tuffo qualche secolo fa con un parato e quindi un'opera tessile di particolare importanza si svolgono nell'interno del complesso museale di San Giovanni tre mostre attentamente selezionate di arte contemporanea ora in questo caso sono con colui che farà la mostra dal 25 di maggio al 30 di giugno una mostra particolarmente significativa per il titolo di grande responsabilità perché con la personale di Franco Carletti che ho il grande piacere di curarla ci uniamo entrambi ad un coro voluto da tutto il mondo che è appunto il no war, quella frase soprattutto la parola war che ci ricollega anche a tante altre situazioni artistiche come la canzone di John Lennon, no war is over eccetera eccetera ci fa portare in questo contesto culturale un contesto sociale, un contesto che riguarda davvero tutto il mondo e quindi annunciamo questa mostra di Franco Carletti che oggi qui con noi nel contesto dell'inaugurazione appunto dell'opera arrivata dal Bargello una mostra che abbraccerà anche una delle più grandi manifestazioni toscane fatte in collaborazione con la regione toscana che è Sapori dove a Fivizzano arriveranno migliaia di persone da ogni parte d'Italia e anche all'estero in un contesto bellissimo dove si svolgerà anche il premio Paolo Grassi, vero Franco? Sì, io sono onorato di partecipare in occasione di questo importantissimo evento e porterò le mie opere e cercheremo di essere all'altezza dei tempi e dei temi attuali Assolutamente sì Franco, Franco è un artista che ha lavorato veramente in Italia e all'estero ha fatto tantissimi eventi importanti, è stato premiato a Firenze, il Collare Laurenziano e tante altre situazioni quindi è una presenza che fra l'altro arriva da Siena, prima è stata citata più volte Siena arriva da Siena e è un artista che rappresenta la toscanità a suo modo proprio entrando in quelli che sono gli eventi sociali quindi ricordiamo dal 25 maggio al 30 giugno No War di Franco Carletti nel museo di San Giovanni degli Agostiniani qui all'interno del complesso museale bellissimo a Fivizzano Grazie